Andavo in officina e lì in officina mi mettevo a lavorare per prendere due soldi. E penso, quello lì lo facevo quasi tutte le mattine, io vivevo solo per la moto. La storia del motociclismo italiano perde uno dei suoi pilastri. La terra di piloti e motori pesarese piange uno dei suoi personaggi più iconici. E' morto ad 85 anni Guido Mancini, ex pilota ma soprattutto tecnico e costruttore senza eguali, capace di creare moto in cui si sedevano piloti bambini per poi diventare leggende. Vedi Valentino Rossi che guidò la sua Sandroni nel 94 o il rapporto strettissimo con Loris Capirossi, lanciato sulla sua TM Mancini o le carriere di Dovizio Sepirro, affermatesi a livello europeo con Guidino Mancini come capotecnico. 40 anni trascorsi da allevatore di talenti fino ai più recenti Franco Morbidelli e Romano Fenati. Guido Mancini era uno che coi motori ci parlava, uno che nella sua bottega in zona calcinari pareva dotato di un cacciavite magico. Una vita che ha odorato di officina descritta anche da un film documentario realizzato da Jeffrey Zani per raccontare un'esistenza fuori dal comune, iniziata da pilota in sella alla moto B negli anni 60, fino al titolo di Campione d'Italia Signores 1977 sulla IPREM 50. Lunedì 24 giugno alle 10 si terrà il funerale nella chiesa pesarese di San Luigi Gonzaga. Tanti si perdono per strada o per i soldi o per la fortuna che non hanno, perché dei campioni del mondo ce ne saranno tanti che vanno più forti di questi che ci sono. Però se ci vuole fortuna è prendere il treno giusto.